Siamo molto soddisfatti già dalle elenche iscritti, grandi macchie, grandi nomi, ieri era una prova spettacolo da urro con migliaia di persone, quindi veramente tutto bene fino adesso. Poi merita, le prove sono molto belle, sono buone. Ok, come sta andando Relle? È stato bene direi. Soddisfatto, il pronostico non lo diciamo, tanto lo sappiamo già. No, no, sono molto soddisfatto anche perché è la prima volta che uso la macchina a Caponi, quindi sto facendo delle cose eccezionali e stiamo soddisfatti, anche con le altre tre macchine stiamo andando molto bene. Vai, sì, raccontami. La fine poteva essere la vittoria, la gara non è ancora finita, però diciamo che ha fatto un piccolo errore stamattina, quindi ha perso 15 secondi, poteva essere a 5 o 6 da Caponi, però dai, ci sono due prove abbastanza lunghe, quindi fino alla fine vediamo cosa succede. Margaroli è bene anche lui, magari un po' praticato sui fondi viscidi che non è abituato, facendo poi due gare all'anno, quindi diciamo che è giusto così, se non se la sente è meglio che faccia una gara regolare fino alla fine. Le macchine per ora è tutto bene, quindi spegniamo duro e fino alla fine vediamo cosa succede. Grazie, grazie. 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 Grazie.